Salve a tutti, ci troviamo nella Chiesa Santa Maria di Gesù della Gancia. Siamo qui dinnanzi all'effigie della Regina della Pacis. Vogliamo in questo mese di maggio presentare questa tradizione che per la nostra fraternità è una caratteristica che parte da lontano. Sin dalla Prima Guerra Mondiale, nel 1917, alcune consorelle e confratelli della nostra fraternità, visto il periodo di guerra nel quale molte famiglie erano coinvolte, sia per i soldati al fronte, sia per il periodo così antipatico e brutto che c'era in quel tempo, e pensarono che un modo per poter essere vicini a tutti era quello di pregare e pregare insieme. E allora fecero realizzare questa effigie della Regina della Pacis, che è una copia di quella che è custodita oggi nella sacrestia della nostra Chiesa, ma che si trovava prima all'altare maggiore, esattamente dietro l'organo. Oggi c'è l'organo all'altare maggiore, mentre prima c'era una nicchia con la Regina della Pace. La Regina Pacis era una tradizione antica di questa nostra chiesa francescana. Così pensarono, realizzando queste effigie con questa cappelletta, esattamente come la vediamo oggi, di portarla nelle famiglie e pregare per tutti i figli di queste famiglie che si trovavano al fronte e che vivevano questo tragico momento della guerra, ma anche per poter pregare per i caduti, per fare un ritorno felice. Devo dire che è stata una tradizione che è partita in quel momento, ma che è continuata anche dopo la fine della guerra. Questa effigie ha continuato a girare per le famiglie della nostra città, sempre e ininterrottamente, fino al periodo quando c'è stata la pandemia e quindi si è fermata nella nostra Chiesa. C'è da dire che in questo peregrinare nelle famiglie ogni anno rientrava in Chiesa per il 31 di maggio, alla conclusione del mese di maggio e poi riprendeva il cammino di famiglia in famiglia. Allora, come ha detto Nino, la pregrinanza della Regina della Pace dal 1917 ha girato per le famiglie della nostra città ininterrottamente fino al periodo della pandemia, ecco che si è interrotto. Durante la pandemia ne abbiamo approfittato per farla restaurare e approfitto per ringraziare Giuseppe Speciale, il nostro amico Giuseppe che con tanto amore e dedizione si è dedicato a ricostruire i pazzi mancanti di questa bellissima nicchia che è fatta tutta a mano, è intarsiata e ha fatto un bel lavoro. Ecco, finito il periodo di pandemia possiamo riprendere ora, la Regina Pace si può riprendere la pregrinazio tra le famiglie. Ci sarà un gruppo di nostri fratelli dell'Ordre Francescano Secolare che il lunedì accompagneranno la Madonnina e la famiglia. Insieme alla famiglia ospitante si faranno un momento di preghiera, di entrata, di accoglienza e poi ritorneranno il venerdì per un momento di preghiera, di congedo dalla famiglia e per riportarla poi ad un'altra famiglia. Durante la settimana la famiglia ospitante si organizzerà autonomamente con i parenti, il vicinato, come è tradizione di una volta che si riunivano i vicini, le famiglie per pregare la Madonnina. Per tutte le famiglie che vorrebbero fare l'esperienza di avere la Madonnina nella loro casa possono benissimo rivolgersi ad Angela Giardinia, il cui numero troverete sovraimpressione.